si fa per dire siamo ritornati in studio dopo una ricca risata potete rimanere qui senza dirci niente noi ci guardiamo solo rideva tantissimi raccontata la barzelletta che non si può dire però una la possiamo dire molto veloce certo la moglie dice dopo 30 anni di cerimonio ma ti rendi conto sono 30 anni che siamo sposati non mi hai mai comprato niente il marito risponde ma perché vennevi qualcosa giusto giusto no però è giusto perché appartiene al tuo personaggio al varietà al personaggio ma non riesco a guardarvi insieme è la coppia la coppia no prima dicevamo vi siete trovati non è facile trovarsi anche nel teatro no è vero non è facile avete lavorato tanto tutti e due ma in due posti diversi in due realtà diverse ruoli diversi però ci sapevamo ci sapevamo ovviamente insomma vabbè stefano ha fatto anche tanta televisione un personaggio noto io tanti anni ovviamente 30 anni insomma di cose quindi insomma così e poi c'è stato appunto l'incontro ed è bello quando poi diciamo ci si incontra veramente diciamo sul sul lavoro come se mi permetti di dire perché questo è veramente un incontro che si rinnova da tanti anni colui che ha scritto ritrascritto lo spettacolo quindi figura importantissima l'autore da un testo di silvana bosi che si chiamava pane amore politica claudio pallottini mio collega compagno di laboratorio e di tanti spettacoli di tante avventure claudio pallottini ha riscritto e ha scritto veramente qualcosa che mi ha dato la possibilità di mettere in scena in maniera giusta in maniera facile proprio perché la sua scrittura diciamo ci ha aiutato a dare i tempi allo spettacolo perché il varietà è fatto di questo dice di costumi si scene luci ma tempi e ritmi e la la sua scrittura va su questa diciamo su questa linea insomma vi siete trovati tutti alla fine sì 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 assolutamente anche i suoi colleghi che io vorrei che lui perché ovviamente lui sta qui però c'ha tanti abbiamo nominato fioretta mare mimmo mignemi ma mi farebbe piacere che stefano ricordasse anche sono tanti per non dimenticare allora giovanna cappuccio daniele derogatis ida elena pamela la cerenza cristina pensiero giuditta sin e abbiamo matteo tugnoli poi abbiamo dieci ballerini mamma mia cinque ragazzi e cinque ragazze che come dire più belli di così non si può e bravi è ovvio è ovvio grandi professionisti la bellezza fatta persona come dire cucita da una grande professionalità sono straordinari ma è la grande occasione per chi dei ragazzi che partecipano allo spettacolo sia ballerini che attori secondo voi tu parli diciamo proprio di un fatto così oppure della storia proprio diciamo del dell'occasione è una grande occasione per alcuni di loro immagino guarda secondo me sperando che lo spettacolo e noi incrociamo le dita abbia fortuna è una grande occasione di lavoro diciamo in questo momento storico un po per tutti i giovanissimi si sa che hanno sempre soprattutto se sono agli inizi ma noi ne abbiamo anche voglio dire di professionisti che già hanno fatto voglio dire esperienza però ti ripeto è un momento di ripartenza è un momento di rinascita quindi in questa chiave è una grande occasione soprattutto diciamo appunto per avere la possibilità di stare in una compagnia numerosa credimi dalla pandemia si è diffusi anch'io ne ho fatti parecchi di spettacoli monologhi spettacoli a due a tre massimo la fortuna di ritrovarsi io fortunatamente ne ho fatti spettacoli numerosi proietti aggiungi un posto a tavola voglio dire quindi le commedie musicali popolate no le grandi compagnie ma oggi come oggi non ci sono ma infatti prima dicevamo che in giro c'è una tristezza tale diffusa in televisione nelle trasmissioni cioè qualunque cosa i nostri poveri poveri telespettatori vedano è un contenitore di informazione si parla spesso anche di cose tristi difficili manca la leggerezza il divertimento anche a teatro che è il luogo del divertimento e allora noi dobbiamo invertire la rotta perché abbiamo bisogno di ridere di stare bene abbiamo bisogno e qui ci sono tutti i presupposti perché insomma a parte gli scherzi questo è uno spettacolo che suscita novità assoluta e poi ripeto in questo momento storico è da fare gli applausi alla produttrice alla rodomonte e a tutto a tutto questo ambaradamo quindi solo il pubblico può sancire questo successo solo solo il pubblico scendo e venendo a divertirsi evviva perché tra l'altro il pubblico è uno spettacolo anche un po' interattivo e il pubblico avrà l'opportunità anche di fare dei coretti che bello perché altrimenti sai che scatole stare due ore così anche per vascularizzare un po' capisci il corpo bisogna un po' commuove poco non molto e divertirsi ma sì e la leggerezza mi stavi facendo una domanda no dicevo no nel senso lo volevo chiedere una cosa stefano ha fatto televisione tanta televisione ma i balletti in televisione i corpi di ballo in televisione quelli di una volta ginolano ci stanno più no esatto esatto quello che stavamo dicendo cioè la grande la grande tristezza diffusa è una tristezza a tutti i livelli stefano io quando ero piccola ti vedevo sempre in televisione con i miei genitori insomma domenica in abbiamo trascorso intere domeniche a seguirti anche lì c'erano i balletti non c'è più quella televisione non c'è più non c'è più quel divertimento non c'è più capito speriamo ecco appunto che questa sia l'occasione per ridare quella spinta a quello che è mancato fino adesso dai e quindi io spero davvero tra l'altro l'abbiamo già detto della grande occasione della grande occasione e parlando di pallottini dell'autore e attore e compagno di marco della scuola di gigi proietti e laboratorio mi farebbe piacere che tutti voi che siete all'ascolto se vi segnate su un foglio di carta o sul telefonino se vi segnate per cortesia andate su youtube ora come finisce la commissione e digitate la signora delle camelie così avrete l'opportunità di vedere marco simioli al in grande dimostrazione il pallottini che fa il suggeritore insieme spartacolo per chi non l'ha visto andate a rivedere questo momento magico come dire della commedia italiana è vero perché è uno di dino verde quindi parliamo di un grande del varietà della televisione del teatro ripreso da proietti a teatro in varietà cavalli di battaglia che abbiamo fatto anche in televisione e dove c'è poi ripreso gigi ovviamente l'ha rimaneggiato e c'è claudio pallottini che fa il suggeritore schema classico ovviamente della risata no io suggerisci che tu capisci una cosa sbagliata dai tempi di plauto shakespeare la comicità fondamentalmente roti intorno a queste cose e io voglio dire mi ricordo vanzina insomma il regista di un film che poi straordinario che poi prese questo sketch dal teatro e l'ha portato nel film appunto un'estate al mare disse ma certo insomma perché io faccio papà di uvalli il papà di proietti dice effettivamente marco simone è un po giovane per farla la compagnia è questa perché ovviamente gli schemi quando funzionano è difficile poi nelle armonie nelle alchimie e lui si divertiva tanto perché c'è questa cosa della zoppia di questo personaggio che entra e appresso al quale al presso al quale papà di uvalli c'è tutta la compagnia addirittura in teatro tutta la scenografia tutta l'orchestra erano momenti veramente esilaranti dove non si andava avanti mi fate venire in mente a proposito di leggerezza e grandi battute grande comicità che al momento forse manca anche la comicità il grande teatro comico insomma ci sono pochi pochi personaggi c'è brignano ci sono i monologhisti ci sono i monologhisti però a parte loro non c'è nient'altro ma guarda beh ce ne sono anche voglio dire di spettacoli comici appunto c'è Enrico che tra l'altro esce ovviamente anche lui da laboratorio di proietti c'è Cirilli insomma ci sono sempre per restare in ambito laboratorio anche anche donne molto brave insomma nella comicità però ecco sono Virginia Raffaele bravissima Virginia Raffaele sono spettacoli ecco diciamo solisti anche per carità con orchestra corpo di ballo non c'è una grande promozione di spettacoli di questo tipo né una grande scelta tra le varie opportunità appunto da sabato sera da da teatro e occasioni per ridere occasioni per ridere io su su questo punto sono molto convinta insomma noi abbiamo bisogno di riprendere un certo teatro e una certa leggerezza proprio perché il momento è quello che è insomma non se ne può più ma sai per esempio in italia c'è stata l'esplosione del musical no dalla compagnia dell'arancia che ne è stata proprio diciamo quella che l'ha portato però il musical straordinario di musica anche in italia voglio dire se ne fanno alcuni veramente molto molto belli la figura della classe dei performer è anche cresciuta tanto ma noi non noi non siamo quella roba là il musical viene da fuori certo noi siamo la commedia musicale e dovremmo anche difenderle tutelarla un po di più ho fatto anni due edizioni di aggiungere un posto a tavola rugantino perché rugantino no però ecco ma ci ha insegnato a tutto il mondo l'italia da questo punto di vista garina e giovanini sono stati straordinari e io qui senza veramente peccare nulla ritrovo in alcuni momenti in alcune cose che abbiamo costruite quel garbo ecco io ritorno su quei su quei termini quel garbo quell'eleganza ma anche quell'ironia esatto che apparteneva lontani il grande gigi proietti l'ironia e la comicità assolutamente di proietti gigi è stato un grande maestro io lo devo dire se so fare quello che so fare se so anche dire agli attori cosa devono fare lo devo a lui è quello che io ho spiato per anni vedendo lui soprattutto come si confrontava col materiale umano che aveva di fronte come lo diciamo questo è un termine brutto ma come ci lavorava lo manovrava cercando di far uscire il meglio anche dei difetti facendoli diventare dei pregi e quella è una scuola c'è poco da fare e quando auguro la cosa più che insomma io non sono vecchio però insomma mi capita quando incontri giovani dico io vi auguro di incontrare dei maestri perché vi cambiano la vita è vero è vero cambiano la vita e ti spiegano veramente che cos'è il mestiere di di attore di comico ma anche che cosa vuol dire poi vivere la vita perché chi fa l'attore vive anche in un certo modo voi prima siete entrati ci siamo insomma subito piaciuti annusati come si dice siamo subito divertiti senza conoscerci non ci siamo mai visti prima c'è l'atteggiamento alla quotidianità è diverso ecco quindi anche un modo per imparare a vivere il il teatro ti aiuta anche a vivere assolutamente infatti gigi è stato un maestro di arte ma anche di vita lui ci diceva come dovevamo fare nella vita muoverci è vero quando mi ricordo ci diplomammo eravamo giovanissimi insomma uscimmo dalla scuola e disse datevi da fa perché non vi chiama nessuno organizzatevi ed erano tempi non sospetti voglio dire parliamo del 93 1990 lui ci disse questo organizzatevi non state a casa aspettando non vi chiama nessuno e noi infatti mettemmo su un gruppo i picari con i quali abbiamo fatto tante cose e ci facciamo le ossa poi fortunatamente le scritture sono arrivate ma fu una gra un grande insegnamento il concetto imprenditoriale dell'attore che è un concetto fondamentale e cioè quello di aiutarsi da soli aiutarsi da soli darsi da fare ogni mattina svegliarsi dice che me posso inventa oggi per far sì che questo mestiere diventi parte della mia vita e quanto lavoro e quanti sacrifici per gli attori comunque tantissimi e la pandemia è stata devastante ma a prescindere insomma dalla pandemia che comunque è stata una fase transitoria un banco di prova comunque sacrifici sono tanti è tosta ragazzi è tosta perché poi al di là che di una selezione naturale il mestiere dell'attore è un mestiere talmente strano dove lo dico anche insomma ai miei amici e le mie amiche vorrebbero intraprendere questa carriera perché ne parlavamo prima al bar no ci sono ormai questi stereotipi delle ballerine le veline le fidanzatine dei 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 calciatori il nostro mestiere è diventato un mestiere povero per ricchi dove si può nascere soldato semplice ma si può morire milite ignoto allora come diceva marco bisogna inventarsi la mattina è come andare sì così alla tentata vendita di un rappresentante dove che come posso che mi posso inventare ma già è quasi stato inventato tutto non è neanche facile quindi essere imprenditori di se stessi è come girare un film grandi energie non è facile non è facile in un sistema come il nostro come ragiona in un certo perché noi andiamo scusa dovevo interrotta volevo finire questo concetto se io e marco andiamo a fare un provino e arriva senza squalificare le trasmissioni non so un un altro attore di un reality ma che è nato cinque minuti fa magari prendono quello anche se non ha esperienza e non è capace neanche a fare però prendono che potrebbero prendere quello quindi vi fanno sentire anche figlio di ore quella è la cosa però i meccanismi del nostro paese sono sono quelli e anche il che siamo diventati il meccanismo dei follower quanti follower ai a me me l'hanno chiesto io mi sono stato un pochino male devo dire ma dopo 30 anni per carità io non voglio dire una fase di passaggio però non decretano il tuo talento se sai fare sai fare no infatti bisognerebbe che non sia proprio una prerogativa oppure una cosa sulla quale effettuare delle scelte oggi più follower ai più vendi e infatti per carità cercano per carità effettivamente è una realtà poi bisogna fare i conti con la realtà non bisogna far finta che non esista oppure accanirsi e dire no io non mi sono mai arrabbiato per niente sono sempre andato avanti siete nati attori semplici non siete stati aiutati dai vostri genitori per fare un esempio di me non volevano tra l'altro quindi avete fatto tutto da soli anch'io io mio padre faceva la comparsa a san carlo non siete stati raccomandati da nessuno praticamente no non siamo stati raccomandati da nessuno infatti a me le raccomandazioni che sono sempre esistite c'è stanno continuando a me non mi hanno mai preoccupato io dicevo soltanto io dicevo soltanto devo rompere le scatole tra virgolette stando di entrare nei giri perché se tu conosci cento persone fai dieci cose se ne conosci dieci ne fai quindi è una cosa la raccomandazione non è il problema avere la fortuna si arriva subito senza rotture di scatole però se uno guarda la fortuna il successo secondo me ma non perché vuole essere consolatorio e riuscire a vivere di questa passione se ci riesci si è una persona di successo vivere con soddisfazione di quello che fai è vero stefano per te l'imitazione di gianni agnelli è stata è stata la tua grande occasione la tua grande occasione sì sì credo che ce la fanno passare una parolaccia una botta di culo io per quella imitazione neanche sarei dovuto essere lì io sono andato ad accompagnare un mio amico che era fidanzato con cinzia leone attrice e saluto e mi ha detto guarda stefano devo andare a consegnare una cassetta perché devono visionarla tre tre ragazze in queste tre ragazze erano serena dandini linda brunetta e valentina muri e lui mi dice vieni io ho detto non mi va ma dai c'è una macchina scoperta cosa non andare da solo per convincermi dice che c'era una lì in mezzo che c'era due cosce meravigliosi mi ha detto mai mi fai venire fino a là per vedere due cosce ma dai vabbè insomma sono andato sono salito e effettivamente due cosce meravigliose e quello l'abbiamo constatato ma al di quello io ero lì da una parte buono buono perché avevo fatto soltanto una trasmissione in in voce cioè non hanno andato in video e quindi che fa sto ragazzo ragazzo avevo 30 anni che fa che non fa e lui disse no sta facendo e loro dissero parlavano di una trasmissione dovremmo avere un operaio ci servirebbe un operaio però un operaio che abbia una caratteristica mentre loro parlavano io stavo da una parte e mi sono intromesso ho detto scusate ma avete pensato una tuta da meccanico con le chiavi che escono l'orologio sul come sulla camicia ho detto le tozze fino a ma che vuol dire facendo l'imitazione di agnelli tipo tipo io dissi due cavolate due sciocchezze mi venivano in me e dissi io non so veda sarebbe molto interessante entrare in sala scocche e cerchere di produrre una vettura per tutti gli operati fermo questa è geniale e mi presero lì botta di culo io mi occupavo di investigazioni private quindi mi sono licenziato perché mi presero lì e mi sono licenziato perché avevo capito come Marco mi ha raccontato la storia che era il momento di andare quindi lì te a casa lì te parenti ero appena sposato da due a tu immagina che cavolo è successo e poi ecco è stata la tua grande occasione Gianni Agnelli peraltro era il suo periodo hai imitato un uomo che in quel periodo era anche molto molto forte sì come no come poi l'ho anche conosciuto ho fatto una convention fiat per gli ingegneri fiat l'ho conosciuto in un momento meraviglioso perché lui neanche si ferma lui aveva non amava fermarsi né con le persone e né a parlare con gli operaia lui dava fastidio gli auguri di natale questo naturalmente raccontato da da tutti certo da tutte da tutto il suo entourage da montezemola e lui una volta che ho finito questa performance perché parlavo male addirittura di tutte le macchine fiat vabbè feci questa mi chiamarono a Torino io stavo facendo la doccia perché era dentro un campo da golf si chiama i roveri quindi sono sbiccati di pide mascia c'è l'avvocato che ti vuole essere tutto bagnato poi io con i capelli ci metto un attimo no sono uscito tutto bagnato e mi ha non mi ha chiamato neanche per noi con il mio cognome Stefano eri troppo simpatico no metto masciarini masciarini in bocca al gruppo e cagliere molto divertente andiamo piccolo luca piccolo luca stanno tutti lì lui e la sorella cesare romiti e quella è stata l'unica gianni agnelli e mi ha portato fortuna quella botta di culo stare lì da una parte i famosi treni i treni che passano i treni che passano da lì bisogna chi appalli però eh però è la fortuna infatti guarda peppino dei filipi io insomma molto ambiente napoletano ho frequentato e tanti racconti a niente peppino dei filipi diceva per fare questo mestiere ci vogliono tre cose fortuna fortuna e fortuna sì sì no poi avere anche la capacità ecco di riconoscere che è il momento giusto e che bisogna approfittare di quel momento della di quell'occasione e battere il ferro insomma poi da quel momento in poi ci sono che non riescono a trovare questo famoso treno questa benedetta occasione grande occasione sì 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 la grande occasione Napoli è la città del teatro sì beh come no Napoli vabbè io la mia formazione è stata Napoli la mia il mio essere Napoletano anche a livello proprio di dialetto che usano gli spettacoli che faccio mi ha dato sempre una grande risorsa una grande è una marcia una marcia in più in che senso dico perché io che ho lavorato e fatto tanto teatro comico teatro leggero i tempi quelli di cui si parla ecco il napoletano nella battuta napoletana i tempi stanno sì sì dentro sì stanno dentro e quindi effettivamente insomma è anche qua addirittura io portai a gigi leggemmo un atto unico di eduardo che poi abbiamo fatto in teatro e anche in televisione a cavalli di battaglia che pericolosamente l'eduardo di filippo e gigi recita per la prima volta un testo di eduardo in questo atto unico surreale è stata una grande soddisfazione eravamo con loredana piedimonte un'altra mia collega bravissima questo è in napoletano gigi lo amava tant'è vero che poi nei suoi spettacoli anche cavalli di battaglia fatti in televisione io intervenivo appunto quando si faceva la citazione del varietà con queste macchiette napoletane di cui però il mio maestro devo dirlo è stato vittorio marsiglia straordinario uno degli ultimi macchiettisti veramente insomma proprio la sua lui è stato un maestro di quel genere napoli è stata veramente dai di filippo a tutti quelli che voglio dire insomma grandi esponenti voglio dire del teatro anche oggi attrici straordinarie napoli è una grande diciamo fucine insomma si dice che napoli è proprio un teatro a cielo aperto è un po vero è così altra imitazione importante altra imitazione di successo altro ma io di allora facevo mi ricordo pertini i soliti mike buongiorno beppe grillo ecco perché a me piaceva fare le imitazioni per scherzo per gioco con gli amici con al bar queste sciocchezze qua sandro ciotti che per esempio ho fatto delle a sandro ciotti quando quando lo conobbi perché lui amava giocare a carta scopone scientifico era come la carrà la carrà mi amava giocare a 3 7 e noi per qualche tempo siamo andati e a giocare e io quando conobbi sandro ciotti che era tra l'altro era una sorta di luminare della musica italiana non sapevo sapeva tutto su tutte le su tutta la di musica italiana era un fantastico invece un grande giornalista sportivo una volta che io l'ho acchiappata l'imitazione sicuramente c'erano le segreterie telefoniche non era oggi telefono c'era la segreteria allora io chiamavo tutti gli amici che lui conosceva per invitarli a casa sua a giocare eri tu però che ero io come facevi al telefono era micidiale così mi sembra tutto sommato che sarebbe opportuno che ci vedessimo a casa mia per il solito giochetto ci vediamo domani alle 8 allora che si sentivano in segreteria si presentavano ma siamo ancora in onda siamo ancora in onda in conclusione e beh no perché poi c'era parola c'era quando glielo ho detto c'era c'è stata la famosa parolaccia ma si lui è certo però col sorriso vuole sapere capito quel figlio di che è perché arrivano sotto casa poi quando mi trovano io sono costretto a farli salire giustamente loro arrivano dice no perché a me piace giocare chi è aiuto arti devo confessare sono io dice non non ci credo non è possibile sono io la metà mi dice allora io devo lasciarvi andare mio malgrado vi tratterrei all'infinito mi piace molto stare con voi siete ci sarà un'altra occasione grazie grazie dell'ospitalità un cruccio un sogno che cosa vi manca cosa non avete fatto in questi anni di lavoro c'è qualcosa che vi manca che vorreste fare io sinceramente no nel senso mi piacerebbe continuare questo lavoro e senza pensare al danaro a cioè nel senso senza pensare all'accumulo perché ci sono nel nostro mestiere no dei personaggi che pensano cioè più accumulano più si sentono fighi io invece più faccio quello che mi piace con persone con le quali sto bene e quella per me la ricchezza anche perché quando sarà che te porti a presto ah no certo quindi stare bene l'obiettivo stare bene marco ma guarda fondamentalmente adesso una cosa in particolare non mi viene continuare a lavorare avere praticamente la possibilità di fare perché quando io lavoro sto bene ecco fondamentalmente ma poi il terzo spettacolo che dobbiamo fare insieme quello per fare me l'ho dimenticato ci sarò io quello non c'è due senza tre anche io va bene come vuoi mi fa piacere grande piacere per me grazie allora grazie a si fa per dire grazie la grande occasione la grande occasione dal primo ottobre a teatro a Roma al teatro bella monaca soprattutto sarà un grande inizio con marco simioli stefano masciarelli grazie grazie di tutto grazie a voi a presto noi ci troviamo domani ciao a presto con voi grazie grazie a te grazie